Come ogni 24 maggio, anche nel 2017 non è mancata a Tolmezzo la processione di Maria Ausiliatrice. Il corteo è partito dalla Sagrata del Duomo e si è snodato per le vie del capologo Carnico sino a raggiungere il cortile del collegio salesiano Don Bosco dopo aver toccato tappe importanti quali l'ospedale civile e la casa di riposo Luigi Scrosoppi. Lungo il cammino è stato recitato il Santo Rosario ed intonate preghiere dedicate alla Madonna. Ti lascio alle immagini. Se vuoi puoi guardare anche il video della processione dello scorso anno. Trovi il link in descrizione. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato e guardare tutti i prossimi video da Tolmezzo e dalla Carnia. Mariano, molto bello. Iscritto sulle fondamenta proprio della statua Tu della Carnia custode fedele. Ecco, vogliamo chiedere veramente a Maria questa sera che custodisca ogni nostro cuore, ogni nostra famiglia, ogni nostra amicizia, ogni nostro desiderio di bene per il presente e per il futuro. Custodisca i nostri giovani nella ricerca della volontà di Dio. Chiediamo proprio al Signore questa disponibilità di ciascuna di noi, affidare a lei, perché custodisca a lei tutto ciò che abita nel nostro cuore. La Vergine, esprimendo la certezza che lei è davvero con noi lungo le vie della nostra vita. Facciamolo quindi con un ordine e un contegno di raccoglimento, il crocifisso accompagnato dai due fanali. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù che risorge dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La Vergine, esprimendo la nostra vita. Ave Maria, piena grazia, Signore e Conte, tu sei benedetta dalle donne e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso nell'ordine della nostra morte, Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.